Radio DJ Tra poco Catteland con Alessandro Catteland A me besta un raggio di sole Tra le corsie dell'inverno Spurgare attraverso il sudore Suona faccia l'inferno Metto gli stessi vestiti Dal 1933 E nel frattempo che le mode passano Questo discorso ho scritto per te E ogni volta che ti senti persa Anche quando non ci sarò Quando questo mondo ti sta crollando addosso Vola con la nostra musica lontano Nel tuo ghiaccio travolgente In mezzo alla confusione Dai banchi del centro alle periferie Dai bai alle stazioni NASA Questo discorso ho scritto per te E ogni volta che ti senti persa Anche quando non ci sarò Quando questo mondo ti sta crollando addosso Vola con la nostra musica lontano Nel tuo ghiaccio travolgente Perché niente non è vero e muore In fondo lo sai anche tu Vivemo sempre dentro la canzone Spinti all'infinito Nel tuo ghiaccio travolgente In fondo lo sai anche tu E ogni volta che ti senti per me Il tuo ghiaccio travolta È un bel ghiaccio travolga E ogni volta che ti senti persa Non ci sarò Chiara sempre ci senti da E ogni volta che ti senti Lontano E ogni volta che ti senti E ogni volta che ti senti E ogni volta che ti senti, pensa, anche quando non ci sarò, quando questo mondo ti sta colando dal suo Vuola con la nostra musica lontano, nel fluo ghiaccio tra la gente Vuola con la nostra musica lontano L'ha fatta, l'ha fatta ieri questa, l'ha fatta, l'ha fatta Dove l'ha messa, dove l'ha messa in scaletta, alla fine, all'inizio, a metà, a metà Come si scelgono le, cioè le più belle le fai alla fine? Cioè alla fine cosa fa, cosa fa, le più, le più No, te lo chiedo perché ieri ho beccato un post di Pier dei Velvet Che aveva ritrovato delle vecchie, delle vecchie fotografie, così Tra cui la foto di una scaletta dei Velvet E sono proprio andato a vedere dove era Boy Band Boy Band era a metà Quindi, posizione di, cioè metà, posizione di prestigio O siccome loro, secondo me, volevano dire La nostra musica è diversa da Boy Band L'hanno buttata lì un po' in mezzo Per farci capire che i loro pezzi preferiti non erano quelli Secondo me è quella cosa che te la fa un po' salire Che sei lì che dici, dai dai, falla, falla, falla Ma soprattutto, perché mi sono chiesto queste cose ieri? Cioè che giornato ho avuto? Per cui mi sono soffermato a chiedere queste cose No, ho controllato, non c'era Non c'è, dopo non c'era, dopo non c'era Buongiorno a tutti ragazzi Siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di Catteland Sigla Abbiamo proprio appena finito di dire che l'unica vera cosa Dai, facciamo finire la sigla, dai Pronto? Pronto? L'unica vera cosa che ci ha insegnato Internet È che abbiamo tutti un sacco di tempo da buttare nel cesso E ne stavamo parlando io e Walter Perché pochi secondi prima di iniziare la puntata di oggi La diretta di oggi Stavamo guardando un video in cui qualcuno ha messo a sync Un balletto di Staglio e Olio Con Billie Jean di Michael Jackson E torna perfettamente Fa anche molto ridere Ma quanto tempo da perdere aveva il signore che l'ha fatto E soprattutto quanto ne abbiamo noi che l'abbiamo visto Noi e quei milioni di persone che hanno visto quel video lì Proprio tempo da buttare nel secchio È così Buongiorno Mauri Buongiorno Come stai? Bene, tutto bene Foschi? Sì, bene Tutto bene, tutto bene Maurizio, non il nostro Maurizio ma l'ascoltatore Maurizio ci chiede subito Ale, com'era la zuppa di cipolle? Che era un po' ieri Era il mio obiettivo della giornata Cioè tutta la mia giornata ruotava intorno a fare cose Nell'attesa poi, tra cui vedere le foto dei Velvet Nell'attesa di arrivare a casa e fare la zuppa di cipolle Buonissima Ma con che cipolle si fa? Cipolla bianca Bianca, sì, sì Cipolla bianca tagliata sottile, sottile, sottile Messa lì un po' di olio Fai andare, fai andare Poi aggiungi il brodo che hai fatto a parte Metti lì, fai andare un'ora No, poi farina, farina Un po' di zucchero Quindi è anche un po' caramellata Pochissimo, però è proprio una puntina Così poi il brodo è Pane Sì Formaggio Forno, gratinata Buonissimo Ho mandato la foto ai miei amici di Cattelanda Che era la fosca, Maurizio E Walter mi prende in giro e dice Fa schifo A parte che non l'hai mangiata Non puoi dire fa schifo Vedi che devi sempre travisare tutto Allora, forse Non bellissima Se mi mandi una foto Non è che ho detto fa schifo Non è che ho travisato Credo che le parole giuste fossero state Figa che merda Probabilmente avevi scritto così Se devo essere sincero Ma soprattutto Walter ormai mi ha ingaggiato in questa sfida In cui devo dimostrargli che invece i piatti sono belli Perché poi i buoni quando li mangio gli piacciono Ma belli E quindi mi ha trasformato in uno di quei cretini che fotografano il cibo È quello che mi ha fatto più ridere di tutto Vero Mi ha detto Walter mi ha fatto diventare uno di quelli che fotografa il cibo È che potere Mamma mia Mi ha tirato nella sua rete Mi ha chiuso lì nella sua rete Allora La dottoressa è arrivata Sì Lì è lì seduta Quindi oggi è mercoledì Torniamo a parlare con la dottoressa Stefania Andreoli Dopo la puntata dello scorso mercoledì Dove abbiamo parlato un po' più noi Parlando un po' meno con voi Devo dire Bello eh Bello Cioè magari lo rifaremo Però oggi parliamo di nuovo un po' con voi Sì Quindi se avete domande per lei 347-342-5220 Anche se a me è piaciuto parlare con lei Però oggi parliamo di nuovo con voi Parliamo di nuovo con voi e dei vostri problemi Eccetera eccetera 347-342-5220 Iniziamo con Creep di Radiohead Madonna Mamma mia Ma ci meritiamo tutta questa Tutto questo video Sai che Mauri Mauri Ci meritiamo tutto Ricordo Tu ti meriti Hai ragione Tutto 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 Anche Valde Ma sì anche Valde Un uomo che mangia i toast anche a Natale Parla dei miei piatti Incredibile questa roba Incredibile Sì Tutto I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a widow What the hell am I to hear? I don't belong here I don't care if I'm alone I want to have control I want a perfect body I want a perfect soul I want you to notice When I'm not around You're so fucking special I wish I was special But I'm a creep I'm a widow What the hell am I to hear? I don't belong here 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 Whatever makes you happy Whatever you want You're so fucking special I wish I was special But I'm a creep Non è per la canzone È per la zuppa di cipolle Che sto buttando fuori Com'era la foto? Non riesco a uscirne Vero? Cioè vista quella foto lì? Basta Cosa vorresti mangiare? Se uno adesso ti dicesse Dottoressa cosa vuole mangiare? Ale basta che ho già una fame Sono qui che salivo Come un cane di Pavlo Ma Walter Walter Mangia il tonno dalla scatoletta Anche il giorno del suo compleanno È uno che non può parlare Di questa cosa Non capisce un caso È arrivata in studio La dottoressa Stefania Andreoli Metti il pallonino al contrario Ti dimentichi di riscaldare il biberone Devi uscire di più Giocare di più fuori Se odia le carote grattugiate E vuoi dare un Big Mac A tuo figlio Vai pure Non l'ho fatto apposta mamma Vedrai quando avrai tu del figlio Stefano ieri abbiamo fatto Una puntata Secondo me è molto carina Partendo dall'ultimo libro Che abbiamo pubblicato Con accento Che esce oggi nelle librerie Lo trovate nello store Che si chiama Felicità Ed è la storia Raccontavamo ieri Di questo editor Di una casa editrice Che deve consegnare Delle proposte Per la nuova stagione Non ha fatto niente Prende il primo manoscritto Dalla pila di fuffa Che arriva Sui banchi Delle case editrici Porta quello E quello si rivela essere Un libro di autoaiuto Che però Incredibilmente funziona Diventa un best seller Tutto il mondo lo legge Tutto il mondo diventa Incredibilmente felice E quindi il mondo va a rotoli E quindi la missione Poi del nostro eroe È salvare il mondo Dalla troppa felicità Mi chiedevo Ma non è che noi Il mercoledì Stiamo facendo la stessa cosa Stiamo rendendo felice Troppa gente Cioè stiamo risolvendo Troppi problemi Se poi fra qualche mercoledì Tutte le persone Non avranno più problemi Il mondo andrà a rotoli Beh allora Intanto è intrigante Lo leggerei Dopodiché Considerale che noi Quest'operazione La facciamo un giorno su sette Quindi tutti gli altri Tuoi ascoltatori Sono allo sbando Cioè c'è tempo Per risolvere tutti i problemi Mi ha insegnato Perché io non l'avevo mai vista In questi termini Certi argomenti Ormai chi ti segue L'ha notato Sono un po' ricorrenti Però di genitori Ne nascono tutti i giorni Perché magari noi oggi Parliamo con il genitore Dell'ottenne Ma deve ancora arrivarci Il genitore di quello Che è nato settimana scorsa Quindi in qualche modo Problemi secondo me Ce n'è sempre Però sai che Ha un fondamento Anche psicologico In realtà Il plot di questo libro Di cui parli No ma infatti è molto bello Cioè è un libro Molto intelligente Sì Assolutamente sì La felicità Non solo è Ma deve essere concepita Come un lampo Certo Come un passaggio Altrimenti Impazziamo Perché la felicità perenne Si chiama mania Ed è uno stato Psichiatrico E un'altra cosa Che penso di noi Per levarci la responsabilità Di rendere il mondo Troppo felice Con i problemi troppo risolti È che noi siamo sartoriali Cioè non è che vi diciamo Le cose che valgono per tutti Noi parliamo con ognuno Non siamo H&M O Zara Che fanno vestiti Molto belli Ma per tutti Noi siamo un piccolo sarto Di una bottega Che vi fa il cappottino Vi fa un cappottino Che magari Vi siete convinti Che vi serve Manco vi serve Però vi facciamo un cappottino Per voi E intanto ce l'hanno E intanto ce l'avete lì Che nei momenti di freddo Ve lo mettete su Davide Pronto C'è il freddo Vuoi un cappottino? Da adesso sto bene 5.000 euro No Da adesso stai bene Adesso stai bene Allora Davide ha un figlio di 8 anni Una figlia di 11 E velocemente la domanda che ti schiaccia il petto Che vuoi fare alla dottoressa Riguarda Riguarda Simone E intanto ciao a tutti Compreso a dottoressa Sì 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 Scusatemi È un periodo in cui facciamo un po' fatica A gestire la lacrima facile Che ha Simone Lacrima facile intendo Se perde Se sbaglia Se viene corretto in qualche cosa Se litiga con gli amici Ha questo atteggiamento Che Diciamo c'è anche Un pregresso Perché poi in passato Gli avevano fatto seguire Un percorso Per un'altra cosa Però diciamo che In questo momento Viene anche un po' preso in giro Quindi Dalla seconda elementare Che Gli amichetti Lo prendono un po' in giro Per questa cosa Sta ancora continuando Lui Ma viene preso in giro Perché piange Cioè Ah ok Esatto Quindi è un gatto Che si morde la coda Sì Di fatto sì Alla fine sì Quindi E lui adesso Ultimamente Lo sta anche Facendo notare Come cosa Che gli dà Che gli dà Dispiacere Che peccato E No scusa Se ti sono intervenuta A gamba tesa Davide Ti ridò subito la parola Dico Che peccato Che Simone E invece pensi Che questa cosa Vada corretta E gli produca Dispiacere Anziché essere Un suo rubinetto Perfettamente funzionante Tramite il quale Esprimersi E buttare fuori Perché vedi Fuori C'è spazio Per la nostra Acqua Per le nostre lacrime Interiori Molto più ampio Di quanto Non ne abbiamo dentro E quando tracimiamo Per fortuna Che c'è un altro luogo Dove andare in qualche modo A mettere quello Che non ci sta più Temo Adesso scusa Avevo promesso Di ridarti la parola E lo faccio Temo che già Da come la racconti Ci sia La solita vecchia Questione di genere No? I maschi non piangono È motivo di Ridicolizzazione Graziale Il fatto che lo faccia Qualcosa a che vedere Con questo Davide? Ma allora Noi in casa No Poi quello che succede A scuola È un po' fuori Dal nostro controllo O nelle case degli altri O nelle case degli altri Sì No Quello sicuramente Anche a noi Non faceva Dispiacere Che lui piangesse O che manifestasse Però diciamo che Vorremmo aiutarlo In qualche modo A capire che alcune cose Sono un po' più leggere E potrebbe anche evitare Di piangere O comunque Mi fai un esempio Di una cosa Che secondo te Non è da piangere? Ma Semplicemente Se lui Sbaglia qualcosa Mentre scrive È capitato Che noi Guarda che Qui hai sbagliato La parola così Lui Si arrabbiava Voleva addirittura Cancellare tutta la riga E quindi da lì Poi gli è un po' La lacrima fa Quindi è una Lacrima in realtà Di frustrazione Secondo noi A volte Si È la lacrima Al posto del pugno Battuto sul tavolo Si C'è anche quello Ogni tanto Ok Diciamo che Anche magari Quando litiga Con Col cugino Con l'amico Quando appunto Viene corretto Poi in passato Era Più forte Questa reazione Abbiamo fatto Un percorso Di un annetto e mezzo Che ha molto mitigato Davide Dimmi se ce l'hai Non so anche Gioca un gioco in scatola Con sua sorella O con voi Se il primo turno Se il primo turno Lo perde lui Piange Ma lui non può perdere Questo Ah noi adesso con Olivia Perché anche lei Se lei perde Cioè se è la prima a perdere Piange Se invece vede Che perdono gli altri E non piangono Allora poi accetta Anche il fatto di perdere lei Però se lei è la prima Che vede così Disperazione Sì È alla stessa età In quegli anni lì Con i giochi in scatola È stato un grande problema Eh certo Allora sai cosa sembra Davide Io ultimamente Adesso che i colleghi Non mi rubino l'idea Sto riflettendo molto Sul fatto che ognuno di noi Abbia tra le cinque emozioni Di base Un'emozione dominante Che in qualche modo Rischia di sovrastare Coprire le altre Nel caso di Simone Sembra un pochino Che lui ci metta La tristezza Perché se vuoi Il pianto può essere Un'espressione di Gioia anche O di commozione Però in questo caso Mi sembra che in effetti Racconti di uno stato d'animo Di segno negativo Dentro il quale lui È a disagio E non sta bene Ecco sembra che Simone Mandi avanti La tristezza E quindi la lacrima Un po' per tutte Le reazioni emotive Cioè anche quando Potrebbe a buon diritto Starci meglio Ed essere più coerente Qualcos'altro La paura La rabbia Il disgusto Alle volte Invece lui ci piazza Sempre dentro la tristezza Come se fosse Dominato Dall'avere a disposizione Quella come prima reazione Probabilmente Potreste considerare Che questo percorso Che già avete visto Abbia prodotto Dei frutti Possa essere Un pochino Implementato E fare un richiamino Ecco una specie Di seconda manche Perché probabilmente Ha bisogno Di ampliare La gamma Delle sfumature Delle emozioni Di cui dispone Che in effetti Sono più di questa Davide ti mandiamo Un abbraccio Grazie Ciao Buona giornata Ciao Qualcuno consiglia Anche di fargli vedere Inside Out Dovina chi ha lavorato Inside Out Tu? Hai fatto il doppiaggio? No ho fatto L'adattamento Alla versione italiana That's all, that's all, that's all Make me water Make me lose my breath Make me water I'm a lead I could keep my cold But tonight I'm whining I'm a beat In a dangerous mood Can you match my tonne? Telling me That you're really important What you're hiding To show me That you understand I like it Can you blow my mind? Set off my whole body If I give you my time Can you stretch my soul from it? I don't want to wait I'm taking Take me Where I ain't made me for Can you blow my mind? Set off my whole body Whole body Make me sweat Make me harder Make me lose my breath Make me water Make me sweat Make me sweat Make me harder Make me lose my breath Make me water Hopefully You can last all night Don't get too excited Ooh Privacy You ain't got to go no way You can stay Can you blow my mind? I know Set off my whole body If I give you my time Can you stretch my soul from it? I don't want to wait Come take me Come take me Take me Take me Where I ain't been before Can you blow my mind? Set off my whole body Whole body Make me sweat Make me harder Make me lose my breath Make me water Make me sweat Make me harder Make me lose my breath Make me water Make me sweat Make me harder Make me lose my breath Make me water C'è Alberto che vuole sapere ma com'è nata la vostra collaborazione con la dottoressa Stefania Andreoli? È tanto ormai Cos'è? 4-5 anni? Questa è la sesta stagione Sesta stagione e secondo me era questo periodo qua Eh sì Era un po' inverno La racconto io Vai Allora era dicembre Noi ci eravamo conosciuti in primavera perché tu avevi concesso che io venissi a parlarti di Papà fatti sentire che era appena uscito il mio secondo saggio Avevamo funzionato Ci eravamo subito trovati in sintonia Tu quell'anno avresti dovuto sostituire Fabio Volo che andava a girare un film a New York e quindi avevi preso il suo orario delle 9 del mattino del mercoledì Alla mattina abbiamo iniziato? E mi avevi detto Stefi proviamo Ti do l'occasione di vedere se possiamo andare oltre una puntata e siamo alla sesta stagione Mi ricordo che era questo periodo invernale un po' più avanti perché mi ricordo proprio quando ti ho scritto che stavo andando a comprare i regali Allora per mia moglie e le bambine di dicembre Io sai che non ho Whatsapp ho letto solo l'anteprima Ciao Stefi sono Ale Cattelan e sono rimasta in macchina ferma credo per delle ore senza aprire il messaggio in fase catatonica Eh lo so faccio questo effetto qua faccio questo effetto che cosa vi devo dire ragazzi? Sì? Sì Eh beh vabbè Anche perché va detto nel senso poi la dottoressa ha avuto un'esplosione però non eri ancora la dottoressa Stefania Andreoli di oggi con milioni di copie vendute Cioè era un inizio di quella cosa lì Pensa avevo 8 mila followers su Instagram all'epoca Adesso siamo a? Eh 340 mila L'ho inventata io L'ho inventata io È vero Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità ritorniamo tra poco Giusto? Già pubblicità Mauri? È giusto? Ok Torniamo tra poco con la dottoressa Stefania Andreoli pronta a rispondere a tante vostre altre domande Tra poco Alessandro Cattelà Mi dice a me non sembra un nome da conduttore E anche a me È più un nome d'alpino No? Sì Radio DJ This is a Cattelà Vorrei cancellare ogni cosa stasera Non farmi sentire un'anima in pena da sola nel mondo che gira e gira per te Ma che poi cade giù Non mi so dimenticare toglierlo come la lama delle prime morti della fama vorrei mostri della fama e almeno tu illudimi illudimi come sei fare tu Bru S S S S S Ma stassi soltanto per dirti che è vero Non è capito soltanto tu 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 Che da tutto il vero e dal buio più nero soltanto tu 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 qualcosa faremo brucia se ce l'ho Stammi vicino se puoi anche se a volte posso cadere nel fino solo come un giardino per te che pestano il cuore poi stracciami come un aquilone e conservami come un gettone per quando vorrai la canzone in più per te non li so di identità taglialo come una lama e prima morse della fama ora i mostri della fama e almeno tu illudimi come si fai tu bru se 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 mangiassi soltanto per dirti che è vero non mi hai capito soltanto tu 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 più da tutto il vereno dal buio più nero soltanto tu 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 qualcosa faremo bru ciao se te ma quanti ne ho fatti di sbagli ma che stranza che parli e poi parli e mi guardi voglio solo scopparti voglio amarti ripensarci poi mi uccidere domani camion vero bru c'è leo un ascoltatore che chiede ragazzi dove trovo la puntata di oggi con la dottoressa stefania andrano è qua adesso vivi nel presente ci stai sconti se c'hai scritto adesso perché sei sicuro che ci stai mandando in onda nella radio giusta maurio non è che hai preso la linea di qualche altra radio del gruppo qui no siamo su radio dj e allora qui leo dove ci vuoi sentire qua siamo qua per te siamo qua per te bentornati sempre in diretta su radio dj mercoledì come al solito insieme alla dottoressa stefania andreoli stavo guardando mi ero segnato un messaggio non mi ricordo più se c'entrava con ciò di cui stiamo per parlare o di cui abbiamo parlato ah no di cui abbiamo parlato è un'ascoltatrice che dice mia figlia è così sensibile che quando le dico delle cose belle non di rado si commuove dalla gioia e appena la sgrido però piange subito poi viene da me e mi dice facciamo pace siccome io sono molto irruenta scrive l'ascoltatrice poi mi sento anche in colpa rispetto a tutti questi sbalzi emotivi però mi devo approcciare diversamente e trattarla come fosse di vetro o puoi imparare un po' ferma ferma grazie Ale perché letti i messaggi proprio per come vengono scritti secondo me immediatamente fanno notare dove vada messo l'accento rispetto a certe parole chiave che questa mamma si dichiari irruenta che poi pensi per poter approcciare in maniera più morbida a sua figlia di doverla trattare come se fosse di vetro diciamo che lascia già capire un po' sembrerebbe lasciare un po' intuire che forse questa bambina mal sopporta l'irascibilità della madre non riesce a stare dentro ai momenti normalissimi di conflitto di malcontento del genitore però nemmeno quelli di amore perché dice che appena le dice anche una cosa molto carina tipo come sei bella oggi lei inizia a piacere allora non vorrei assolutamente fare delle interpretazioni lo dico in abstracto perché loro due non ne conosco non si conosciamo ma mi verrebbe da pensare quasi che questa bambina possa essere incredula e allora magari ma veramente capisci magari c'è un po' di disordine rispetto alla paura abbiamo detto quanti anni abbia questa piccola? eh non c'è scritto eh allora è un dato che mi manca probabilmente si trova un po' a fare fatica a trovare un equilibrio tra quando la mamma si arrabbia e quando la mamma invece la rispecchia positivamente e ha paura di perdere continuamente quello che sente un senso di precarietà affettiva quindi attenzione all'irruenza ma non pensando che la piccola è di vetro pensando che per la piccola tu sei l'amore della sua vita eh così l'hai ammazzata però adesso è lì che dice oddio ho sbagliato tutto no 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 però diventa un'occasione per essere maggiormente empatica e calda al telefono invece abbiamo Marta che ha scoperto il mondo pensa e ne vuole parlare con noi Marta bevo il mondo ciao ciao Marta Marta ha fatto una scoperta incredibile e voleva metterci un po' tutto al corrente di questa cosa qua cioè cioè hai scoperto che i bambini di sette anni al parco si menano sì no ma pazzesco no un po' tanto dice ma com'è che qua passano le loro giornate al parchetto a rincorrersi, menarsi, darsi i calci, i pugni, gli schiaffi sì facciamo così no mi dicevano in particolare quando escono da scuola quindi forse quando sono un po' troppo carichi però il mio problema è che io sono una zia non sono una mamma quindi parlo per mio nipote sì e della sua difficoltà di non sapere agire a una certa irruenza degli altri bambini e poi credo sia una cosa che riguardi sia bambini che bambine brava, ci piace e dunque sì chiedevo come come che si fa cosa dire a un bambino che non sa come reagire alle botte no ehi attenzione no 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 già mi semplifichi le cose perché hai anticipato i famosi dettagli che altrimenti ti avrei chiesto io perché la mia domanda sarebbe stata ma tuo nipote subisce è passivizzato rispetto a questi episodi di aggressività me l'hai già detto allora io non credo che il tuo interlocutore sia tuo nipote in questo caso lo diventa in seconda battuta perché se ti viene spontaneo se sei questo tipo di zia poi lo coccoli, lo conforti, te lo tieni vicino, gli asciughi le lacrime valutiamo che stia bene però guarda mi assumo la responsabilità di dirti che se io fossi al tuo posto il mio interlocutore sarebbero questi bambini che lo picchiano però scusami lo menano o giocano a menarsi e quindi se ne prende un po' anche lui ci sarei arrivata ah ok allora credo che sia no 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 sei già sempre mille passi avanti Ale nel 4000 allora secondo me dobbiamo distinguere due aspetti uno potrebbe essere una cosa che non vi aspettate per questo ho particolarmente piacere di dirvela cioè non ci dimentichiamo che tutti noi ma i bambini in particolare che hanno passato otto ore chiuse nel banco non sono ancora così in qualche modo irregimentati dall'educazione e dalla cultura hanno tutta una loro portata in effetti di reattività di vivacità di argento vivo di aggressività anche di qualcosa che arriva al limite inferiore della violenza che noi dobbiamo accogliere come fisiologico e non possiamo pensare di frustrare o di negare o di censurare a tutti i costi perché rischiamo di farli diventare delle piccole pentole a pressione che poi esplodono quindi c'è una normalità del corpo che ha bisogno di dire anche di misurarsi con il gesto eccessivo per questo ti dico Marta che io a quel punto da adulto ci fossero anche gli altri adulti presenti non mi interessa sono responsabile della scena alla quale sto assistendo interverrei per dire che si sta passando il segno che si sta esagerando che ci si sta rischiando di fare male che quello che vedo non mi piace quando capita a me io non giudico non entro nel merito perché si tratta pur sempre di bambini ma dico questa cosa non mi piace io non sono d'accordo non tu ti stai comportando male che è una differenza sottile ma che mi convince molto quindi intanto fermarli dove il gioco diventa un'altra cosa e poi eventualmente prendere il mio nipotino che non va fatto imparare a reagire pan per focaccia o a non subire la situazione ma che in effetti bisogna assicurarsi che stia ancora bene abbastanza per aver voglia di continuare a giocare ok ok c'è Ale perplesso sì sì no no tutto giusto sono un po' sono un po' più i maschi che fanno così allora delle femmine su questo mi piace dirti due cose i maschi e le femmine con buona pace della parità dei diritti che non viene toccata da quello che sto per dire sono diversi i nostri cervelli sono diversi i nostri ormoni sono un po' più simili secondo gli ultimi studi però di fatto apparteniamo alla stessa specie ma siamo differenti quindi è vero che la reattività maschile ha delle caratteristiche differenti da quella femminile per quanto è anche vero che c'è un aspetto culturale cioè ancora adesso le bambine sono cresciute un po' sotto al cappello del comportati bene fai la brava bambina fai la donnina aiuta la mamma cioè le bambine sono un pochino più invitate comunque a comportarsi in maniera composta ai maschi lo si chiede di meno quindi può essere che una loro predisposizione biologica poi possa essere un po' esasperata dal fatto che nessuno li contenga allora l'adulto competente deve trovare la giusta misura tra sapere che tutto questo è normale vale per i maschi come per le femmine anche se forse con stili diversi le femmine sono in effetti più cerebrali e meno fisiche dal punto di vista dell'uso delle mani e però sapere quando invece si sta esagerando e lì bisogna intervenire per non tollerare e mandare un messaggio educativo Marta nel messaggio scriveva anche se è un problema generazionale probabilmente secondo me anche perché lei avendo 40 anni quando era piccola in quanto femmina giocava di più con le femmine e non si rendeva conto che di fianco al loro gruppo che stava facendo le chiaccherine delle femmine così c'erano dei maschi che si menavano tanto uguali non credo che sia generazionale molto più la storia dell'uomo è vero che oggi forse quello che è più contemporaneo è che il genitore moderno fa tanta fatica a porre un limite che sia di qualunque natura per le botte al parchetto che sia per l'uso dei device che sia per i compiti fatti dai genitori al posto degli studenti quindi può essere che Marta si debba prendere la briga di fare lei l'adulto al posto di altri adulti che intanto stanno scrollando la loro timeline stanno guardando Instagram mentre i bambini si scannano mentre i bambini si scannano anche in questo senso qui poi ci sono genitori che non sono d'accordo con la mia opinione in quel momento come comportarsi ah io me ne frego perché non è un'opinione che non ci si debba picchiare cioè non è che è affidato alla sensibilità individuale che puoi dire la tua e poi soprattutto il figlio in questo caso nipote è tuo cioè se io ti chiedo di non picchiarmi il figlio non è che poi dobbiamo instaurare un discorso su questa roba qua non mi picchiare il figlio va bene Marta ti mandiamo un abbraccio grazie mille ciao 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 grazie Mauri ma quando è che fai un disco così? c'è qualcuno che chiede dove puoi riascoltare la puntata di domani del Giovedi Lemma Mauri dove lo possiamo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti. 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 Ah, però è bellissima questa cosa. Steffi, grazie mille. Grazie mille. Ci sentiamo mercoledì, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre su Radio DJ come al solito. Mettiamo l'ultimo pezzo che abbiamo il tempo di perdere. post-and-tipo, dai, come un'altra, come un'altra, come un'altra canzone, come un'altra canzone, come un'altra canzone, come un'altra canzone, perché quello che c'era da dire ce lo siamo detto e ci vediamo mercoledì prossimo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !